Lo potremmo definire il ritiro dei presidenti ospitati da Pulvirenti? Peppe Di Stefano sei in diretta con il presidente Pulvirenti del Catania, presidente buonasera. Come lo possiamo definire? Un ritiro tra vecchi amici, tra presidenti? Dica lei, buonasera. E ritiro, buonasera nel vero senso della parola, ritiro. No, no, è due giorni così di vacanza, di vacanza al mare e basta per stare un po' sereni e poter parlare un po'. Come è nata, presidente, questa idea? Perché il posto è incantevole, perché noi, Davide, dovete sapere alle nostre spalle c'è il mare, c'è uno scenario davvero incredibile che oggi questi personaggi del mondo del calcio, oggi e domani, si godranno dal primo all'ultimo istante. Com'è nata questa idea? Partiamo da qui, perché è una bella cosa. No, dovevamo parlare un po' e allora abbiamo pensato di farlo qua a Taormina, dato che c'è la possibilità di avere il mare, insomma un bel clima e allora ci siamo visti qua. Ripeto, abbiamo fatto due cose contemporaneamente, era importante vedersi e l'abbiamo fatto a Taormina. E per chi si fosse messo in ascolto soltanto adesso, io ripeto, quello che ha organizzato il Catania, il presidente Virenti e il vicepresidente Cosentino è cominciata la giornata al mare. Poi una visita a 3.000 metri d'altezza sull'Etna con una pace storica che tra poco il presidente ci racconterà e alla fine, come ultima cosa, addirittura nei vigneti un pranzo quasi casalingo per poi ritornare al mare. Cioè c'è stato di tutto e da quello che hai capito è stato anche apprezzato un po' tutto questo. Sì, diciamo di sì, anche se abbiamo fatto delle cose abbastanza scondate perché sia Taormina che l'Etna che è la zona dei vigneti di Lingua Glossa, costituzione di Sicilia, sono molto molto conosciuti. Quindi nessuna scoperta particolare per chi conosce questa zona della Sicilia sa che ci sono queste bellezze. Quindi noi abbiamo fatto altro che portare i nostri ospiti a vederli. Gagliani cosa le ha detto? Perché sembra molto rilassato. Lui solitamente vive i fini di settimana a Forte dei Marmi, però ovviamente il presidente difende il territorio e dice qua è tutta un'altra storia. No, no, non voglio fare questo paragone. È una località bellissima a Forte dei Marmi, però esiste anche Taormina e anche la Sicilia in generale, quindi credo che si stia trovando bene. Davide, a voi il presidente vi ascolta. Sì, mi ha incuriosito. Dovevamo parlare. Dovevate parlare di mercato, del futuro del calcio italiano, oltre credo del bel posto, del cibo meraviglioso. Qual era l'argomento principale, se ce lo può dire? Questo qua, l'ultimo, l'ultimo. Hai il cibo, il mare. Del posto, di quello come si sta qua, come si sta Taormina. Sì, sì. Del mare, la spiaggia, tutto quello che c'è attorno. Però Davide, se siete d'accordo, ci facciamo svelare anche le curiosità, perché magari è vero, si parla del cibo, si parte da lì, ma capita poi, non vogliamo sapere di cosa avete parlato, magari di trattare anche di giocatori, comunque di parlare di mercato, giocatori scadenza, anche solo come curiosità. Allora, si inizia dicendo che non parliamo di calcio e si finisce parlando solo di calcio. L'idea di partenza è quella di no, no, stiamo tranquilli, parliamo d'altro, poi non si riesce. Dopo un minuto si ricade sempre su queste storie, giocatori scadenza, comportamenti, allenatori, mercato. Quindi è inevitabile che poi si passa a questi argomenti. Davide, a te, poi ho l'ultima curiosità a chiedere al Presidente, ma intanto vai tu. Assolutamente, io voglio fare i complimenti per la gestione Catania, perché avete fatto veramente un passo alla volta senza mai perdere il senso dell'orientamento e senza soffrire di vertigini. Avete creato un centro sportivo straordinario, avete portato in Italia tanti giocatori, fatto diventare grandi tanti allenatori, Montella su uno. Adesso mi sembra che il prossimo passo sia la creazione di un nuovo stadio e poi dopo un nuovo stadio si può pensare all'Europa. È così, Presidente? No, questo non è un passo, stiamo iniziando a volare. Non lo io, è un mio pensiero. Questo discorso riguarda non solo il Catania ma tantissime altre società, quindi siamo fermi sul progetto stadio per quanto riguarda l'Europa, ma facevamo proprio insieme ieri, tanto perché non parliamo mai di calcio quando siamo con gli altri, facevamo questa considerazione che è quella di cui ho da sempre. Sette, otto squadre si condendono i primi posti, l'Europa, altre 12 lottano per salvarsi e fra queste c'è il Catania. Quindi stiamo là, sereni, tranquilli, cerchiamo un attimino di raggiungere il nostro obiettivo che è la salvezza. Scordiamoci quello che abbiamo fatto, lo daremo in mente come un traguardo importante, però non è facilmente ripetibile l'anno prossimo. Peppe, a te la chiusura. Sì, l'ultima cosa. Le chiedo questo perché parlare di mercato probabilmente sarebbe scontato, l'Odi, Tazzidis, Monzono, ma quello probabilmente ne ha parlato anche nei giorni scorsi. Le chiedo solo una cosa perché probabilmente negli ultimi 12 mesi il Catania è cambiato tanto, da una gestione a quella di Pulvirenti, da Gasparin a Cosentino. Tanto è cambiato e probabilmente il Catania sta crescendo anche da questo punto di vista nella consapevolezza magari di voler diventare anche una piccola, piccola, piccola potenza di questo mondo del calcio italiano, pian piano. Ma no, una potenza no, secondo me è sbagliato. Una, secondo me, vogliamo essere una realtà perché ci abbiamo lavorato da dieci anni, abbiamo realizzato delle strutture importanti, siamo cresciuti e quindi come tale credo che abbiamo anche l'obbligo di avere considerazione di noi stessi e di poter fare vedere anche agli altri quello che siamo riusciti a fare, ma sempre tutto con molta umiltà. A voi. Chi vince lo Scudetto, Pulvirenti? Ma sicuramente favorita la Juve, anche se un avvicendamento al vertice non sarebbe male, per esempio c'è il Napoli, il Milan, anche la Fiorentina potrebbe essere una sorpresa. E un'ultima cosa e poi veramente la lasciamo andare. Fiorentina di Montella, eh? Eh sì, eh sì. Assolutamente, Montella, non so se oggi ha sentito le parole di Rudi Garcia, sa quello che è successo a rischio di Brunico, c'è stata un po' una contestazione ancora alla Roma e Rudi Garcia ha detto che chi contesta ad agosto in estate non è un vero tifoso. Lei che ne pensa? Ha ragione Rudi Garcia oppure no? Secondo me sì, assolutamente sì, perché si inizia una stagione e bisogna dimenticare quello che è successo in passato. D'altronde nel calcio si sa, si vince, ma si può anche perdere e di conseguenza credo che i tifosi tutti, non solo quelli da Roma, sono abituati. Poi si chiude una stagione, ci può stare il malumore, però poi si inizia un'altra e iniziare in questo modo non giova a nessuno, soprattutto ai giocatori che sono poi i protagonisti o all'allenatore, quelli che scendono in campo. Quindi credo che l'allenatore della Roma abbia perfettamente ragione. Grazie Presidente, grazie a Peppe Di Stefano, grazie ragazzi, andiamo dal ritiro del... Grazie a tutti.